Adidas e FGC hanno ufficializzato le immagini della nuova maglia della Nazionale Italiana di Calcio. Una divisa che riprende più o meno la tonalità dell'ultimissima maglia Puma infelice, quella che ci avrebbe dovuto accompagnare ai mondiali di Qatar che non abbiamo disputato, ma con dei dettagli significativamente diversi. Intanto due nuovi loghi, quello Adidas, senza la scritta Adidas lasciando solo il simbolo, che da questi mesi entra pienamente in vigore per le divise dei vari sport. E poi il nuovo logo FGC, che è molto simile a quello precedente, ma ha una grafica e una linea un pochino più friendly. Lungo i fianchi una bella striscia tricolore appena visibile e vicino al colletto dei dettagli dorati per richiamare l'Italia campione d'Europa e anche, a ritroso andando indietro, campione del mondo. Sul retro del colletto la scritta Italia e senza voler ricopiare la bellissima maglia Puma con cui appunto l'Italia è diventata campione d'Europa, ci sono dei dettagli che richiamano qualcosa che ha a che fare con il marmo. E quindi la storia dell'Italia, una storia classica che ha radici profonde nel passato. In particolare la seconda maglia è un richiamo al marmo, con un bianco un po' sporco, un po' opaco, e queste venature blu navi. Molto interessante anche la divisa d'allenamento, che comunque ha una struttura simil marmo con il tricolore, diciamo, stilizzato da un fianco all'altro. E c'è disponibilità anche della divisa a manica lunga, pure della maglia gara. I prezzi ovviamente sono i nuovi prezzi Adidas. 140 euro per la versione Authentic, in tutto e per tutto simile a quella che i calciatori indossano in partita, e 90 euro per la versione stadio, per la versione tifoso. In attesa di vederla in campo, sarà utilizzata proprio oggi, 18 gennaio, in una partita amichevole delle giovanili a Coverciano. Che cosa ve ne pare di questa nuova divisa, di queste nuove divise dell'Italia, targate per la prima volta Adidas? L'inizio di una nuova era, come recitano gli slogan di lancio di questo prodotto, e dovrebbe essere un'era migliore della precedente. Speriamo infatti che l'Italia vinca qualcosa con Adidas come sponsor tecnico, magari già con questa maglia.